Anna Tetangelo Anna Tetangelo, ma qual è la verità? Intanto zittisce il gossip Il gossip impazzisce nel trovare un uomo alla cantante Anna Tetangelo. Gossip, a furia di trovarle a tutti i costi il fidanzato, il gossip impazza e la diretta interessata in questione, alias Anna Tetangelo è travolta dal gossip. Ogni mese le viene affidato un probabile fidanzato. Ma qual è la verità? La verità in questo ambito è molto difficile da trovare, nel senso che non si capisce mai chi sia il vero fidanzato di Anna Tetangelo. Il gossip le ha affiddiato Christian Dieri, in realtà ha fidanzato con l'ex velina Costanza Caracciolo. Poi è stata la volta di un misterioso discografico, seguita da un certo Vincenzo Sino all'ultimo, Jacopo, il suo manager con cui Anna Tetangelo è stata fotografata dal settimanale Chi. Ma in realtà, tra i due ci sarebbe solo amicizia. Stando ai ben informati, infatti, Jacopo sarebbe felicemente sposato. Lo scoop sul nuovo fidanzato della cantante di Sora, fa notizia. Il post ironico di Anna Tetangelo su Facebook. Anna Tetangelo scherzandoci su, stanca dei soliti pettegolezzi sul suo conto e del toto non mi lancia sul popolare account Facebook un ironico post in cui stila un elenco con i relativi mesi in cui le viene affibbiato un Toy Boy. Scrive, Mi fate sapere anche quello della prossima settimana e quelle a seguire? La verità sul mio uomo? Andrea e basta. Il commento fa da cornice ad un'immagine che è il riepilogo con tanto di freccette indicative e flirt da luglio fino ai giorni nostri. La cantante zittisce così il gossip ammettendo di avere occhi solo per il figlio Andrea, nato dalla relazione con il cantante napoletano Gigi D'Alessio. Anna Tetangelo e la separazione. La separazione con il cantante Gigi D'Alessio ha lasciato delusione e amarezza per chi credeva nella forza e nell'unione della coppia. Ma adesso è il momento di andare avanti e pensare al futuro. Un futuro accanto al piccolo Andrea che sembra occupare tutto il suo tempo e che dichiara di essere il suo uomo preferito. Il tour è la nuova sfida. In ambito lavorativo è partita con il suo tour libera che sta per concludersi mentre in primavera uscirà il suo nuovo album. Intanto la cantante si prepara per il concerto rimandato qualche giorno fa per problemi di salute. Una novità attende la tatangelo. Il suo ruolo? Cuoca VIP in Celebrity MasterChef 2, dove dovrà sfoderare le sue abilità culinarie. . .